Difficile immaginare una partenza più prestigiosa per la 58esima fiera del Tartufo Bianco di Acqualagna. Sabato la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa nella città del Tartufo visitando gli stand che elevano la massima qualità del prezioso tubero. Ma la tappa nel Pesarese è stata tutt'altro che una gita di piacere, piuttosto è stata una visita fondamentale per sbloccare per le marche la bellezza di 532 milioni e mezzo di fondi attraverso la firma dell'Accordo di Coesione, il secondo in Italia dopo il precedente della Liguria. Una stretta di mano fra Stato e Regione suffragata alla presenza del Ministro Raffaele Fitto e del Governatore Francesco Acquaroli che ha accolto la premiera ad Acqualagna assieme al Sindaco Luca Lisi. L'accordo punta a mettere a bilancio regionale risorse canalizzate sulle opere infrastrutturali pensate per riequilibrare il divario fra regioni spesso arretrate o troppo isolate come le Marche. 532 milioni che saranno canalizzati su strade, porti e politiche attive per l'entroterra. Oggi è una tappa molto importante, la firma dell'Accordo di Coesione tra il Governo e la Regione con il quale anche insieme al Fondo di Rotazione mobilitiamo oltre mezzo miliardo da concentrare particolarmente sulle infrastrutture di collegamento della Regione con progetti molto importanti per questo territorio, penso alla Petemontana che ci consentirebbe e ci consentirà di intanto decongestionare l'autostrada triatica ma dall'altra parte anche di favorire la mobilità da, verso e all'interno delle aree più interne, mi scusi per la ripetizione, per cui noi lavoriamo su una priorità che abbiamo sempre dichiarato, l'abbiamo dichiarata diversi anni fa. Questa è una regione nella quale si sviluppa un paradosso, è una regione che si trova al centro dell'Italia e isolata, mentre dovrebbe essere un crocevia, quindi la sfida infrastrutturale per una regione come questa è fondamentale, il Presidente Acquaroli ci lavora dall'inizio del suo mandato, noi siamo contenti di offrire con questo accordo con il Governo nazionale in base ai fondi europei il nostro contributo perché penso che i prodotti, la manifattura, gli scorci bellissimi che questa regione ha nulla possono in termini di competizione se non sono accompagnati da adeguate infrastrutture, cioè le marche di altro non hanno bisogno che di essere messe in condizioni competere ad armi pari ed è quello su quale cerchiamo di lavorare. Una presenza significativa, una presenza che conferma l'interesse per questo Governo nei confronti delle regioni che storicamente sono state periferiche rispetto alle dinamiche centrali è anche importante perché con la firma di questo accordo e con la presenza del Presidente Meloni e del Ministro Fitto si sancisce una collaborazione che è fondamentale per quello che ci riguarda per continuare a costruire un'Italia unita e coesa e dove regioni come le marche che hanno appunto dei problemi di natura infrastrutturale che negli anni hanno avuto comunque dinamiche periferiche pesanti che hanno penalizzato l'economia possano continuare a sperare in un futuro e costruire una risposta che possa essere anche attrattiva e soddisfacente.